Adesso facciamo entrare il prossimo ospite, prego! Non è contento? Non è contento? Non è contento? Bene, grazie! Questo signore si chiama Filippo Alfani e ha, lo vuol dire lei, quanti anni ha? 72 a marzo 72 anni Altro che Sparzenegger Prego, saccomo Vuole una maglietta perché magari... È sì, perché... grazie.